in questo numero con la satira si può sconfiggere il melanoma ecco perché il morbillo è così contagioso promessa cura anticancro farmacista con cuore da pilota svela i segreti per correre la dakar e ancora saluti a rischio al pronto soccorso colpa del caos e del taglio dei posti letto contro l'hpv vaccinato il 62 per cento delle 14 anni italiane il vero o falso di questa settimana parla di rughe e per concludere le news scelte per voi dalla redazione dare informazioni corrette in particolare ai più giovani per prevenire il melanoma tumore della pelle causato da raggio tra i violetti che ogni anno uccide in italia 1500 persone e di cui si registrano 7 mila nuove diagnosi con l'età delle persone colpite che si sta abbassando progressivamente il messaggio della prevenzione non deve essere un messaggio terroristico deve essere un messaggio che deve arrivare alle famiglie alle persone prevenzione sia per primaria che riguarda le abitudini di vita il sole eccetera eccetera e anche secondaria cioè fatevi controllare i propri nei per cui attraverso queste iniziative questi cartoni animati questi fumetti sarà possibile dare dei messaggi messaggi sulla prevenzione solare sull'uso dell'abbigliamento importante per proteggerci dalle radiazioni sulla terapia la target therapy l'immunoterapia del melanoma da far conoscere in maniera molto semplice con dei personaggi che saranno poi un po' i personaggi chiave diciamo della prevenzione del fumetto la possibilità insomma di dare un messaggio chiaro la prevenzione rappresenta di sicuro l'arma più efficace ancora oggi fortunatamente nel 2011 abbiamo due farmaci importanti abbiamo l'immunoterapia che per la prima volta ha dato un'importanza un impatto sulla sopravvivenza dei pazienti migliorandola per cui non abbiamo ancora risolto il problema melanoma ma gli abbiamo dato un buon colpo scienziati statunitense della Mayo Clinic hanno scoperto perché il morbillo fra le malattie più contagiose al mondo con 10 milioni di bambini colpiti ogni anno e 120 mila morti si diffonde così rapidamente il virus che lo provoca si annida nella trachea del paziente causando una tosse che riempie l'area di particelle pronte a infettare il prossimo ospite e per farlo il microorganismo si serve di una proteina chiamata nectina 4 risultati che a sorpresa potrebbero contribuire anche alla lotta al cancro delle ovaie del seno del polmone la nectina 4 è infatti un biomarcatore per questi tipi di tumori e alla prestigiosa clinica americana sono in corso studi che utilizzano virus come quello del morbillo per attaccare il cancro e poiché questo bersaglia la nectina 4 una terapia a base del virus del morbillo potrebbe essere più efficace nei pazienti il cui tumore esprime tale proteina durante la settimana il camice bianco con la targhetta da farmacista ma quando gli impegni lo permettono salta in sella la moto da enduro per allenarsi ad affrontare il temibile rally della dakar 2012 è la scommessa di alfredo procaccini ex presidente nazionale dei giovani farmacisti pronto ad andare a tutto gas per arrivare al traguardo dalle cose dell'oceano atlantico a quelle del pacifico sono 9 mila chilometri tra deserto montagne alte oltre 4 mila metri sbalzi di temperatura e senza la minima traccia d'asfalto un'ambulanza ogni 10 chilometri è pronta ad intervenire un tormento per il fisico del pilota che se non preparata a dovere rischia di fare tilt abbiamo tutti quanti un kit che cerca di così tamponare quanto meno le mancanze quindi con dei gel specifici da prendere una volta ogni ora in linea di massima sono queste bustine di gel che sono come un carburante immediato se vogliamo chiaramente due litri quanto meno di liquidi sulle spalle con all'interno sali minerali insomma per chiaramente ribilanciare quelli che si perdono il sudore l'obiettivo l'obiettivo per tutti gli appassionati non è vincere perché vincere è la peculiarità di quei 10 15 campioni gli altri appassionati vogliono arrivare alla fine cioè dire sono partito questo è il traguardo ed è un grande traguardo voci e urla dei pazienti abbandonati nei corridoi su barelle improvvisate sale d'attese stracolme medici che corrono da una parte all'altra la ricerca di un posto letto che non c'è è una scena che chi lavora nei pronto soccorso italiani conosce molto bene ma negli ultimi anni la situazione sembra peggiorata a lanciare l'allarme sono gli esperti della medicina d'emergenza abbiamo una situazione per cui i pazienti giungono in pronto soccorso anche il numero eccessivo rispetto a quelle che sono le reali necessità dei pazienti in emergenza e poi tendono a rimanere bloccati all'interno del pronto soccorso principalmente per il problema del blocco del ricovero perché è la situazione più grave che oggi c'è nei nostri dipartimenti di emergenza e che il paziente una volta che si è stabilito il ricovero non si esce più a sistemarlo adeguatamente per mancanza del posto letto disponibile questo come si ripercuote prima sulle cure offerte al paziente poi sul lavoro del medico d'emergenza per quanto riguarda il paziente ovviamente si tratta già innanzitutto una questione di dignità personale in primo luogo perché il paziente rimane in barella e questo già di per sé non è estattamente una situazione appropriata anche in termini privacy ma questo in una certa misura tende anche a prolungare il ricovero e può creare delle interferenze sui processi assistenziali per quanto riguarda invece gli operatori chiaramente ci fa lavorare mare ci fa lavorare più del dovuto dobbiamo spesso assistere il doppio dei pazienti per i quali noi siamo stati messi in questo pronto soccorso in questa medicina d'urgenza a lavorare e quindi siamo in grande difficoltà cosa si può fare per limitarlo e quindi anche per lavorare meglio ci sono state 11 regioni che sono state sottoposte a piano di rientro e hanno dovuto tagliare in maniera molto importante i posti letto dobbiamo chiederci se in questo momento quello che stiamo guadagnando dal punto di vista economico non lo perdendo dal punto di vista assistenziale quindi fare un attimo un momento di riflessione e forse rivedere un attimo come andare avanti su questo discorso in primo luogo e poi all'interno delle singole strutture cercare di rendersi conto di questo che è un problema che è diventato di rilevanza nazionale e far sì che tutte le direzioni sanitarie di tutte le strutture in cui questo problema è presente sono molti in questo momento in italia mettono in campo delle attività e degli interventi adeguati per poter affrontare il problema che è ancora sottostimato vaccinato contro il papilloma virus umano il 62,2 per cento delle 14 anni italiane cioè le ragazze che avevano 11 anni nel 2008 anno dell'avvio effettivo delle campagne vaccinali e quanto emerge da una ricerca del census dal titolo le donne italiane e la prevenzione dell'hpv presentata a roma la quota di giovani vaccinate decresce tra le attuali 13 anni a quasi il 60 per cento e tra le 12 anni al 54 per cento segnalando così una flessione nel tempo delle adesioni alle campagne di vaccinazione gratuita scarsa invece la diffusione della vaccinazione tra le donne adulte e al di fuori del regime di gratuità la quota di 18 anni oltre vaccinate non arriva al 3 per cento bisogna assolutamente intervenire perché lì dove l'informazione non è stata coerente lì dove anche l'offerta non c'è stata una chiamata attiva forte da parte dei servizi vaccinali le coperture sono troppo basse ed è un problema perché non è un intervento di sanità pubblica efficace raggiungere il 50 per cento vuol dire raggiungere quella fascia di popolazione che per motivi socio culturali anche economici forse avrebbe fatto bene a comprarsela da sola mentre invece la chiamata attiva deve riuscire a raggiungere proprio quelle fasce di popolazione che culturalmente non vengono raggiunte dall'offerta dalla chiamata attiva che sono poi quelli soggetti più a rischio di sviluppare la malattia il tumore al colore dell'utero a distanze 10 15 20 anni ma emergere dalla ricerca census su 3500 donne fra i 18 e 55 anni è soprattutto la richiesta di maggiori informazioni da parte dell'universo femminile su questo tema ben 4 donne su 5 sostengono che le informazioni che circolano sull'hpv e la vaccinazione non sono chiare il vaccino contro il papiloma virus umano può servire per proteggere non solo le ragazze ma anche i ragazzi la presenza a livello maschile è data soprattutto dalla condilomatosi anogenitale che è molto molto frequente e lo è particolarmente in alcuni strati sociali è vero che le rughe vengono solo dopo i 40 anni è falso anche perché possono venire molto più precocemente il crono aging infatti inizia con la nascita dell'individuo quindi ci sono donne che a 16 17 anni già presentano le prime rughe è vero che le rughe possono essere prevenute assolutamente sì è verissimo possono essere prevenute con l'uso di cosmetici adeguati giusti per l'età e per il tipo di pelle e specialmente con una corretta prevenzione solare è vero che il fumo non favorisce la comparsa di rughe è assolutamente falso in quanto il fumo insieme al sole sono i due fattori danneggiativi in assoluto per la pelle l'alimentazione può aiutare a combattere le rughe assolutamente sì questo è molto vero in quanto il consumo di frutta e verdura fresca fornisce degli antiossidanti che sono fondamentali per la pelle così come il giusto apporto proteico vuoi dalla carne che dalle dalle proteine vegetali aiutano il fibroblasta a formare una quantità maggiore di collagene è vero che le rughe rappresentano un problema irrisolvibile assolutamente no non sicuramente oggi con i mezzi che abbiamo a disposizione è vero che la cosmetica aiuta a combattere le rughe assolutamente sì quindi è assolutamente vero è fondamentale quello che uno fa a casa tutti i giorni a volte ancora di più rispetto a quanto si fa poi in studio dal medico le persone che lamentano problemi di salute legati agli spostamenti quotidiani non sono dei malati immaginari lo stress del pendolare esiste davvero toglie il sonno e può far ammalare a dimostrarlo è uno studio svedese condotto dall'università di lund su 21.000 lavoratori dai 18 ai 65 anni chi si muove in auto treno o autobus sta peggio di chi lavora abbastanza vicino a casa da potersi spostare a piedi o in bicicletta spiegano gli autori basta tutelare furbi arricchiti colpendo la struttura portante di quel poco di welfare rimasto nel nostro paese nessuno sviluppo è possibile senza garantire servizi fondamentali per il cittadino sanità scuola e sicurezza se queste sono le soluzioni prospettate non potremo sottrarci da reagire per far sì che in ultimo il governo tagli se stesso è il commento della nao assomed alla lettera di intenti consegnata all'UE effetto mozart anche in ospedale se si ascolta un'opera del genio di salisburgo durante l'esecuzione di una colonoscopia è più difficile che al medico sfugga la presenza di un polico precanceroso è quanto emerge da un curioso studio presentata a washington al meeting dell'american college of gastroenterology secondo un recente studio della federazione italiana di medicina dello sport nel 70 per cento degli atleti che non superano la visita del medico sportivo viene riscontrato un problema cardiologico che viene diagnosticato in soggetti per la maggior parte asintomatici a sottolinearlo e fabio pigozzi prorettore dell'università fuoritalico di roma fra le patologie più frequenti riscontrate la cardiomipatia ipertrofica la miocardite e le anomalie congeniche delle arterie coronarie questa era la nostra ultima notizia per contattarci potete scrivere a salute chiocciola adncronos.com grazie per averci seguito e alla prossima puntata